Benvenuti al nostro video su come utilizzare il 100% del nostro cervello. Oggi parleremo di alcune tecniche per massimizzare le prestazioni del cervello. Il cervello è un organo incredibile che ci consente di pensare, imparare, ricordare e fare tutto ciò che facciamo ogni giorno. Ma la maggior parte delle persone utilizza solo una piccola percentuale della capacità del loro cervello. Quindi, come possiamo sfruttare al meglio il nostro organo preferito? Ecco alcune tecniche. Meditazione La meditazione è una pratica che ha dimostrato di aumentare la concentrazione, ridurre lo stress e migliorare la memoria. La meditazione si concentra sull'attenzione piena, l'osservazione dei propri pensieri e sensazioni e il rilassamento della mente. Anche solo pochi minuti al giorno possono fare la differenza. Esercizio fisico L'esercizio fisico non solo migliora la salute generale, ma ha dimostrato di aumentare anche la capacità cognitiva. L'attività fisica aumenta il flusso sanguigno al cervello, fornendo ossigeno e nutrienti necessari per il funzionamento ottimale. Camminare, correre, nuotare o fare yoga sono solo alcune delle attività che possono aiutare. Allenamento mentale L'allenamento mentale consiste nell'eseguire attività che stimolano la mente, come i giochi di memoria o i puzzle. Questi esercizi aiutano a migliorare la memoria e la concentrazione. Inoltre, l'apprendimento continuo, la lettura e l'esplorazione di nuove attività aiutano a mantenere il cervello attivo e in forma. Sonno Il sonno è fondamentale per la salute mentale e fisica. Il cervello ha bisogno di riposo per elaborare le informazioni e consolidare i ricordi. Dormire è importante per la produzione di neurotrasmettitori che regolano l'umore e il comportamento. Bene, abbiamo finito. Se volete sapere come alimentare al meglio la nostra mente per ottime performance, vi consiglio di guardare il video creato in precedenza, dal titolo Cervello e Alimenti Top 10. Ed eccoci alla fine. Ci vediamo alla prossima. Ciao!